Spesso ci viene detto a Poasco non si fa mai nulla. Eccoci qua oggi a raccogliere l'idea di alcuni cittadini a realizzare questo mercatino dei bei ricordi per fare come sempre di Poasco un quartiere delle famiglie. Il mercatino dei bei ricordi è un'iniziativa partita da alcuni cittadini di Poasco chiaramente sposata dal comitato di quartiere e realizzata grazie all'ausilio dell'amministrazione comunale. Abbiamo con noi il sindaco Andrea Checchi. Allora signor sindaco, come vediamo questa iniziativa e che auspici abbiamo? Come amministrazione siamo ben contenti di poter sostenere e promuovere iniziative che partono dal basso e quindi da questo punto di vista un'iniziativa come il mercatino dei bei ricordi e poi altri eventi, altri spettacoli piuttosto che non, momenti di incontro e di aggregazione. Ecco qui si sente il vero spirito della comunità e quindi noi ci siamo e continueremo ad affiancare momenti come quello di questa ultima domenica.